E vai, Ale, ecco qua Entrata in tenuta cancellara Con la tenda blu, donato Donato è il grande fisarmonicista Alla sua esibizione qua, non pagata E vai, E vai, eccolo qua Ecco qua, questa signore e signori L'inaugurazione della tenuta cancellara Località Timone, numero 14 Valenzani, Asti, mi raccomando Cliccate numerosi, noi ci siamo non venite perché per ora non c'è da mangiare prossimamente documentatevi arrivederci e alla prossima ciao da Gigi Tranquillo